Non un gesto celebrativo, ma l'occasione per auspicare insieme uno slancio coraggioso, un nuovo inizio per tutta l'Europa. Così il Papa ha accolto il premio Carlo Magno, consegnatogli in Vaticano davanti alle principali autorità europee, tra cui la cancelliera tedesca Merkel, con la quale poco prima aveva avuto un colloquio privato, e attribuitogli dalla città di Aquisgrana per il suo impegno a costruire un'Europa di pace fondata sui valori comuni. Questa famiglia di popoli, annotato con rammarico il pontefice, in tempi recenti sembra sentire meno propri le mura della casa comune, sembra cedere ad egoismi e appare stanca, decaduta, impegnata a dominare spazi, più che a generare inclusione e trasformazione. Perciò Francesco ha invocato la necessità di un cambiamento che passa attraverso il recupero della memoria, di quei progetti di unità e pace che i padri fondatori riuscirono a realizzare in un tempo segnato dalla guerra. Quei progetti, ha detto, non sono superati, ispirano oggi più che mai a costruire ponti ed a battere muri, mettendo in campo una solidarietà concreta che nulla ha a che fare con l'elemosina. Il Papa ha proposto e auspicato un nuovo modello di umanesimo basato su tre capacità. Primo, integrare, come antidoto ad ogni forma di esclusione, che provoca invece viltà, ristrettezza e brutalità. Secondo, dialogare, realizzando coalizioni educative, filosofiche e religiose, piuttosto che militari. Terzo, generare. In primis il lavoro per i giovani e poi un'economia più equa ed inclusiva, che investa sulle persone e non punti solo al reddito e al profitto. Il Papa ha quindi espresso il sogno di un'Europa che promuova e tuteli i diritti di ciascuno, senza dimenticare i doveri di tutti. Sogno un'Europa giovane, capace di essere ancora madre, una madre che abbia vita perché rispetta la vita e offre speranze di vita. Sogno un'Europa che si prende cura del bambino, che soccorre come un fratello il povero e che arriva in cerca di accoglienza perché non ha più nulla e chiede riparo. Sogno un'Europa che ascolta e valorizza le persone malate e anziane, perché non siano redotti a improduttivi oggetti di scarto. Sogno un'Europa in cui essere migrante non è delitto, bensì un invito a un maggior impegno con la dignità di tutto l'essere umano. Sogno un'Europa delle famiglie, con politiche veramente effettive, incentrate sui volti più che sui numeri, sulle nascite dei figli più che sull'aumento dei beni. Grazie. 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 Grazie.